L'animetria lo vedo intero, per cui non ho capito perché... Eh, infatti, è come c'era. Comunque, anche qui... Saranno da così a così, sia lancioni senza finestre come questo. Però è perché così visivamente mi sembra... Si è l'inferno della finestra, si vede lì. ...idea anche delle dimensioni e dei rapporti anche con le colline circostanti con... Nel senso che io ho fatto una cosa anche un po' più precisa di questa qui. Riportando dal semaforo di San Bartolomeo, guardando la Spina Verde, per spugare, per vedere la cima della Spina Verde dal semaforo di San Bartolomeo bisogna alzarsi di 9 metri rispetto allo piano stradale. Mentre se si è al semaforo di San Bartolomeo con questi qui di 30 metri si vede giusto questa parete qui, che basta. Quindi più o meno rendere via. Quindi ovviamente la nostra proposta di questo emendamento è quello di ritornare quantomeno alle altecce di gara anche se... Si proponeva di lasciare una feritoia, però di alzarsi ancora perché era giusto per capire com'era la situazione. Grazie. Grazie, consiglio Lucini. Rivolto al consigliere di commissario.